Se cerchi un contorno facile, veloce e gustoso, devi provare questi bastoncini di melanzane. Sono croccanti fuori e morbide dentro. Lavate la melanzana, eliminate le estremità e tagliate la fette dello spessore di mezzo centimetro. Tagliate poi le fette a bastoncino. Versate in una ciotola il pane grattugiato, aggiungete un pizzico di sale e di pepe e gli aromi e mescolate bene. Versate in un piatto l'uovo e sbattetelo con una forchetta. Passate ogni bastoncino, prima nella farina, poi nell'uovo sbattuto e per ultimo nel pane grattugiato. Man mano sistemate i bastoncini di melanzane in una teglia con della carta forno. Aggiungete un pizzico di sale e di pepe e dell'olio. Fate cuocere gli stick di melanzane in forno statico già caldo a 180 gradi per 20 minuti. Li preparate in poco tempo e sono buonissimi. E se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu.